Bentornati su MyFootballJersey. Quella che vi mostro oggi è la seconda maglia dell'Ajax per la nuova stagione, la 2023-2024, in edizione fan, l'edizione player l'avevamo già vista e trovate qui in alto la recensione. Grazie per la visione! Maglia molto bella, elegante, semplice, nella mia classifica questa prende 4 stelle, portata con un paio di jeans come sto facendo io, è veramente meravigliosa. Il costo lo vedete qui sopra, fate voi i vostri ragionamenti, ma è veramente un costo imbattibile, bassissimo. In descrizione, qui sotto, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate sul sito perché, tra l'altro, con il link che trovate qui sotto, potete ottenere anche uno sconto di 3 dollari, quindi il costo diventa ancora più vantaggioso. Ora vi lascio la parte finale. Prima però lasciateci un grande like e iscrivetevi al canale. A voi iscrivervi non costa nulla e a noi ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.